Questo Cersi non ingrano, ma è serio. Perché ci manco io. Senti, tu vinci la partita? Sicuro. Ah, fai l'angelo. Ci giriamo dopo, allora? Beh, ti faccio con lui, vengo preparata la macchinetta. Avremo in campo? Eh, c'è, abbiamo ripreso? Sì, sì, tutto a pezzo. Bravo, Fabio! Questo poi dicono... Tu avrai la polla a polino, è subito, c'era la polla a polino. Comento sul gol? Un bellissimo gol, Auriemma un po' in ritardo su De Lucia, però il passaggio a Lanzano è dato a buon fine. Eh, va. Sì, proprio sento le piccole. Sì, è un po' in ritardo.